sto registrando un video che avevo preparato a futura memoria in questo caso è una mia casa in ampia pianura e in questo video c'è mia madre ancora in vita ed altro lo sto registrando non è? come si chiama? dove eravamo salvati a noi? località busanino vicino a chianni questo era il mio nipote i figlioli di un mio cugino passione per i cavalli colori strani che usavano una volta ora non usano più davvero comunque sono ottimi ricordi ecco mia madre con accanto mia zia erano come due sorelle mia zia stava a chianni che da busanino ci sono siano 7 8 chilometri e questa casa la comprei io per far felice mia madre un posto pieno di frutta c'era da ogni ben di dio dalle prime ciliegie atti da giù c'era di tutto c'era anche uno slargo dove io avevo creato una piccola sala da ballo con i miei amici di livorno mia zia gestiva la trattoria nel paese di chianni ecco che bel viso mia madre e c'è un cane lupo e c'è un cane lupo piccola piccola Grazie.